La Madonna di Trevignano piange, lacrime di maiale, l'accusa e l'esposto contro la veggente custode. Potrebbe esserci una svolta dietro il caso della Madonna di Trevignano e delle presunte apparizioni. Dietro il «miracolo» che ogni terza domenica del mese, da sette anni a questa parte, attira centinaia di fedeli vicino al lago di Bracciano ci potrebbe essere del semplice sangue di maiale. A sostenerlo è un esposto presentato ai carabinieri di Trevignano contro Gisella Cardia, ovvero al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, la sedicente veggente custode della statua di una Madonna che lacrima. A consegnarlo un investigatore privato. L'atto, che contiene accuse contro Cardia, è stato trasmesso alla procura di Civitavecchia. L'investigatore privato sostiene che dopo alcune analisi sarebbe stato appurato che le lacrime sarebbero compatibili con sangue di maiale. Sul caso della Madonna di Trevignano la diocesi di Civita Castellana ha istituito una commissione per effettuare un'indagine previa, finalizzata ad approfondire l'eventuale fenomenologia dei fatti, che si verificano da qualche tempo a Trevignano Romano. Ogni tre del mese nella cittadina laziale si radunano diverse persone per presunte apparizioni della Madonna. I presunti veggenti hanno anche aperto un sito e costituito un'associazione. La custode veggente aveva raccontato di aver cambiato vita dopo essersi messa in viaggio verso Meggiugorie, quando a un certo punto la statua della Vergine che portava con sé ha iniziato a lacrimare sangue. Ma quanto è vera questa storia? L'investigatore che si fa chiamare «il comandante» è pronto a difendere i diritti dei fedeli truffati, c'è chi ha dato più di 100.000 euro. Riuscirà a risarcire tutti i fedeli? E tu cosa pensi di questa storia? Faccelo sapere nei commenti ed iscriviti al canale.